e benvenuti a un 99 secondi speciale qui dal tempio dei runner milanesi ovvero sia il parco ravizza che potete vedere qui alle mie spalle in tutta la sua immensità uno dei migliori parchi milanesi dove venire a correre la domenica e anche gli altri giorni io ci vengo anche la mattina durante la settimana e fare del gran buon running qui in mezzo al verde tra l'altro è tutto benissimo questo parco ma veniamo al motivo per cui siamo qua oggi che è la prova delle puma mobium runner la nuovo modello di scarpa della puma che insomma devo dire è decisamente interessante adesso la corsetta è andata io vi faccio vedere le scarpe che ho in questo momento ai piedi eccole sono di questo bellissimo color verdino acido che va tanto di moda e devo dire la livra è notevole la scarpa è assolutamente leggera peserà meno di 300 grammi anzi sarà intorno ai 250 da quasi non si sente i piedi e ha questa tomaia molto molto leggera che ci permette diciamo di fare delle grandi cose la sensazione piedi è fantastica è leggerissima adesso mi siedo un attimo così le possiamo vedere meglio anche nel dettaglio eccole qua come vedete c'è su un po di fango perché oggi la giornata era bagnata vedete questa suola particolarissima fatta a forma di zampa di gatto perché come sapete il simbolo della puma non è un ghepardo tra l'altro neanche smacchiato ma è un gatto ecco questa particolare conformazione permette alla scarpa di essere molto molto reattiva se vedete poi cerco di inquadrarlo ecco questa cosa gialla si incrocia è un elastico un elastico che si tende durante la corsa e evidentemente riesce a dare anche quello scatto quella marcia in più che riesce a farti andare sempre più veloce come potete vedere poi la scarpa è leggerissima questa qui è praticamente una tomaia traspirante molto molto leggera e con questi rinforzi riesce a dare anche un leggero supporto alla pronazione per chi come me è assolutamente pronatore non sono sicuramente scarpe per fare grandi chilometraggi sono scarpe molto veloci da usare in gara tra l'altro in questo momento lo sto utilizzando con delle calze xbionic quindi molto protettive molto molto resistenti comunque la sensazione in generale è buona devo dire che dall'alto dei miei oramai 87 kg comunque sono un runner pesante sono riuscito a guadagnare quasi un buon mezzo minuto a parità di prestazioni quindi il medesimo battito cardiaco e medesima frequenza diciamo di di corsa quindi di di passo e devo dire sono decisamente interessanti il prodotto quindi è promosso a pieni voti almeno dal mio punto di vista e mi sto divertendo un sacco adesso appena corso dieci chilometri come vedete sono bello rosso bello paonazzo ma adesso vado a fare altri 45 e sicuramente mi diverto tanto con queste scarpe quindi puma mobium ragazzi dateci dentro perché il runner evita e soprattutto è senza timore alla prossima